Bene, ciao a tutti, partiamo, partiamo e vediamo 5 modi per diventare una donna irresistibile secondo la scienza. Cara Margaciona, prima però iscriviti al canale, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube ovviamente. Vediamo 5 modi per diventare una donna irresistibile secondo la scienza. Allora, cara Margaciona, se vuoi diventare una donna irresistibile, una donna che piace a qualunque uomo, devi sfruttare la psicologia maschile, devi sfruttare la scienza che ti dà delle indicazioni per diventare rapidamente irresistibile. La prima cosa che devi fare, questo te lo garantisco io, perché appena vedi un uomo devi presentarti come sessualmente attraente ma non puttana, cioè non una, diciamo, mignotone da corsa. Questo è un dato di fatto. Quindi cerca di curare al top, al massimo la tua femminilità. Questa è l'esca ovviamente, non è l'amo. Ovviamente è conforme alla tua età, se hai 20 anni è diverso che se ce n'hai 30, 40, 50, 60, ma devi curare al massimo la tua femminilità. Quindi vuol dire che devi tenerti in forma, devi tenerti in forma il più possibile. Io ti suggerisco, più diventi malgasciona, diciamo, più devi tenerti in forma facendo esercizi con i pesi, perché ti manterrai soda, come dire. Questo è fondamentale. Evita, poi questa è la mia opinione, ad esempio di diventare rifattona, perché ti incessisci ancora di più, diventi ancora più cessa, insomma. Però ti entri in forma fisicamente, poi coltiva al top la tua femminilità, la classe. Questo è fondamentale. È un'esca molto utile, ovviamente. Ripeto, mai immignotirsi però, perché quello inesca meccanismi di difesa. Ovviamente nel frattempo seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, su TikTok, su tutti i miei canali YouTube, e ti ricordo che dovresti, diciamo, fare donazione al canale. Così dai un sostegno, fai donazione al canale. Allora, quindi, tornando al discorso precedente, quindi dipende un po' dall'età. Se sei malgasciona, cioè dai 40 ai 60 anni, è evidente che devi in qualche modo fare esercizi con i pesi per tenerti in forma, e poi essere femminile. Quindi anche il linguaggio non verbale della femminilità è fondamentale, perché devi imparare a camminare in modo sensuale. Ho spiegato in tanti video, insomma, ma tu guarda come si muovono, diciamo, le donne, intanto saluto Federico, come si muovono le donne che hanno fascino, che hanno classe, che hanno charme. È molto importante questo. Il mignotone da corsa non funziona, perché in una soluzione a lungo termine non dà nessuna chance, nessuna possibilità di piacere a lungo termine, perché innesca meccanismi di difesa. Quindi questo è il primo punto fondamentale. Anzi, sono due i punti, perché è fondamentale, diciamo, da un lato tenersi in forma, essere appetibile e dall'altro essere femminile. Questo innesca, diciamo così, un interesse per il maschio. Una volta che hai innescato, diciamo, questi interessi per il maschio, devi sfruttare il fatto che gli uomini comunque non vogliono la vita facile. La maggior parte delle persone, la maggior parte dell'umanità è fatta da uomini che ambiscono a soffrire per conquistare qualcosa. Cioè, quando gli stendi il tappetino rosso, tu non conquisti. Soprattutto il maschio, diciamo, noi psicologicamente le cose facili le diamo, diciamo, pensiamo che le cose facili valgano poco. Quindi anche una donna bella, che te la dà subito, viene giudicata come di basso valore. Perché le cose preziose, siamo abituati, e questo è un condizionamento mentale, siamo abituati al fatto che le cose di valore te le devi sudare. Non so, uno per comprarsi una casa magari ha lavorato anni, si è fatto il mutuo, e poi quella casa lì per lui ha un valore. Quindi tutto ciò che noi diamo, reputiamo di valore, di qualità, ce lo siamo sudato, diciamo così. E questo è un meccanismo psicologico, perché poi tu potresti, diciamo, non è detto che sia vero, ma non è vero quel che è vero, ma è vero quel che pensiamo, quel che crediamo che sia vero. Quindi è fondamentale che tu ti rendi preziosa. Il che non vuol dire che gli fai intendere che non gliela darei mai. Perché se dici, guarda, io non la do mai a nessuno, non l'ho mai data a nessuno, allora vieni vista come una donna, diciamo, come dire, da scartare subito. Ma tu il messaggio che devi far passare è io la do a un uomo di qualità, così lo metti in doppio legame. Perché lui, come dire, se non gliela dai, gli fa intendere che non è di alta qualità, e quindi cercherà di fare qualcosa per essere qualitativamente superiore. Ecco, quindi questo è il messaggio che devi fargli passare. Ovviamente devi dirglielo, devi prima aspettare che ci provi. Quindi appena ci provi, ma scusa, ma perché mi hai preso? Io non è che sono una. Io, a me, non ho problemi, però deve essere un uomo che proprio sia un uomo di qualità. Come io sono donna di qualità, cioè che non è che la do a uno così, tanto perché ci prova. Questo è interessante, questo discorso, perché crea fondamentalmente un doppio legame. Lo squalifichi indirettamente, non provandoci, gli stai dicendo che non è di qualità, e quindi lui cercherà di apparire qualitativamente, diciamo, più interessante, più intrigante. Un'altra caratteristica fondamentale è quella dell'utilizzo della psicologia inversa. La psicologia inversa ti serve per ferire un po' il suo orgoglio di maschio, ti serve per ferire un po' il suo, diciamo, il suo sentirsi maschio attraente. In che modo? Beh, devi desessualizzarlo. Desessualizzarlo vuol dire trattarlo come tratteresti un eunuco, come tratteresti uno che non ha sesso. Questo fa impazzire gli uomini, fa impazzire, perché indirettamente vai a squalificare, a ferire, tra virgolette, il suo orgoglio di maschio. Come fare a trattarlo come eunuco? Beh, trattarlo nel senso come eunuco lo tratti, ad esempio, parlandogli di altri uomini, dicendo delle frasi, guardi, io ti vedo come un'amica, ti vedo come se fosse un'amica, per cui, perdonami se ti racconto delle cose, neanche come un amico, lo desessualizzi del tutto, per me sei come un'amica. Quindi vai anche a scardinare un po' il suo orgoglio di maschio, facendolo sentire quasi come fosse femmina, diciamo così, no? E questo genererà dentro di lui, ma devi farlo con quelli che ti piacciono, non con quelli che non ti piacciono, genererà dentro di lui un, come possiamo dire, un sentimento, una sensazione di conquista. E poi, l'ultimo punto, e questo è fondamentale, devi ovviamente farti percepire come la donna giusta per lui. Quindi, oltre che essere una donna di classe, una donna, diciamo, femminile, attraente, non devi farti vedere come una sciampista. Quindi devi presentarti come una donna affermata di successo nella vita, nel lavoro, nel danaro, una donna indipendente, una donna che ha dei valori, che ha dei valori simili ai suoi, delle credenze simili alle sue. Questa è la cornice, diciamo, no? Perché in questo modo, come dire, non è che dici, vabbè, ho perso una sciacquetta qualunque, ho perso una sciampista qualunque. Dirà, cavolo, se qua non faccio qualcosa, riesco di perdermi veramente una donna di valore. E tra l'altro, il non dargliela, tra virgolette, ti farà percepire anche come preziosa. Ecco, quindi, metti in atto questi cinque modalità e vedrai che riuscirai a conquistare praticamente qualunque uomo e quelli che non riuscirai a conquistare fuori dai coglioni e te li togli dalle balle. Tra l'altro, un altro test, perché c'è, ad esempio, io non ho capelli, per dire, e tu fai la domanda, ma che tipo di uomo ti piace? No, se lei ti dice, a me piacciono gli uomini con i capelli lunghi, tu vai a cavallo, ci vai a nozze, perché se sei uomo riuscirai in qualche modo a sedurla. Se sei donna, non devi dirgli mi piacciono quelli con i capelli lunghi, perché in questo modo vai a declassificarlo. No, tu devi dirgli semplicemente no, io non guardo tanto l'estetica, guardo la mente di un uomo. Questo è importante comunque. E invece nelle strategie di seduzione del maschio verso la femmina, poi ti spiegherò, ma c'è l'altro canale al quale ti consiglio di iscriverti e sedurre le donne con Massimo Terramasco, perché lì spiegherò proprio, invece, i meccanismi per gli uomini, ma servono anche per le donne. Comunque, per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, su TikTok, su tutti i miei canali YouTube, iscriviti a tutti i miei canali YouTube, tra cui il nuovissimo canale Sedurre le donne con Massimo Terramasco. Bene, per questo video è tutto. è tutto.